La El Foundry di Avezzano manda a casa 100 interinali da gennaio. 80 dipendenti indiretti verranno trasferiti all'attività produttiva e nessun ritorno del superminimo. Sono alcuni punti del piano presentato dall'azienda di proprietà cinese in un incontro ieri a Roma al Ministero delle Attività Produttive del Made in Italy, una situazione che preoccupa non poco i 1.400 dipendenti. Marcello D'Antiochia, l'amministratore, ha illustrato il piano spiegando che sono in fase di crescita con una forte localizzazione su ricerca e sviluppo, ma è fondamentale, ha detto, evitare di entrare in uno stato di crisi per cui, se il programma sarà condiviso, si riusciranno a superare brillantemente i prossimi due anni. Ma le nubi insorgono all'orizzonte. La notizia, infatti, è che gli interinali andranno a casa 100. Solo lo scorso anno erano più di 200 tra carrellisti e operai. I sindacati ci vanno giù duri, soprattutto la CGL, ma anche gli esponenti politici come il sindaco di Avezzano di Pangrazio, il senatore Fine e lo stesso consigliere regionale Verrecchia, hanno espresso molta preoccupazione per quanto sta accadendo nell'azienda che è la più grande del territorio. Le dichiarazioni fatte dall'azienda in occasione dell'incontro al tavolo ministeriale presso il Minit a Roma, ieri, sono gravi. Ci aspettavamo la presentazione di un piano industriale, invece abbiamo assistito ad un elenco di richieste, di determinazioni da parte dell'azienda che, come dire, impattano solo ed esclusivamente sui lavoratori, sia dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista salariale, il tutto in assenza di un piano concreto di rilancio dello stabilimento avezzanese. Noi riteniamo che ci debba essere la massima attenzione rispetto agli sviluppi che riguarderanno le Foundry di Avezzano e il nostro appello è rivolto alle istituzioni affinché non vengano concessi finanziamenti pubblici a aziende che mandano a casa le persone e che tagliano i salari.